Siamo su un piccolo supporto su cui si stanno basando chi ha una view rialzista, ripeto, sono grafici giornalieri, potrebbero cambiare nelle prossime sedute. In questo momento c'è proprio un tentativo di rimbalzo in corso, dopo questa candela verde del 12 gennaio, e prenderei come riferimento questo 27.552 prezzo Aikinashi, che è differente da quello ufficiale di mercato, ho detto c'è una formula dietro come risultato dei prezzi Aikinashi, massimi e minimi tendono a coincidere con i prezzi ufficiali di mercato, però occhio la chiusura è differente. Quindi con una chiusura giornaliera sotto i 27.552 per il nostro Futsimib, riprenderebbe il discorso ribassista, partito il 6 gennaio, dopo che il nostro indice aveva aggiornato i massimi dell'anno precedente, con un top sopra i 28.213 punti. Quindi il livello da monitorare per quanto riguarda l'Italia, quindi tendenzialmente adesso a rialzo, c'è questa voglia di ripartenza, però se cede ai 27.552 ritorna il trend ribassista.